Futura Memoria è una rassegna ideata da Arci Pescara che si dipana su 11 eventi atti appunto a commemorare, ma non in maniera nostalgica, i 100 anni della rivoluzione d'ottobre e il 77 italiano. Abbiamo avuto una memoria forte di questi eventi che ancora esiste e vive con noi nella nostra quotidianità. Noi abbiamo articolato questa rassegna appunto su una serie di eventi che vanno a toccare diverse arti per sensibilizzare più possibile le persone, ma soprattutto i ragazzi molto giovani che magari stanno perdendo questo tipo di memoria o hanno un'idea confusa di quella che è la memoria. L'evento di punta della rassegna è appunto quello del 15 febbraio, che vedrà Pierpaolo Capovilla, già voce del Teatro degli Orrori e prima ancora di una band seminale degli anni 90, One Dimensional Man, proporre qui allo Spazio Matta di Pescara uno spettacolo esclusivo, Eresia Socialista, Eresia dell'Amore e io vi invito a partecipare anche perché sia questo che gli altri eventi sono completamente gratuiti. Ci sarà Comunismo Futuro, un film di Andrea Groplero, regista bolognese, con testi scritti, realizzati appunto da Francesco, Franco Bifo Berardi, voce storica delle radio indipendenti italiane del 77, avremo Luciana Castellina, fondatrice del Manifesto, per una conferenza il 22 marzo allo Spazio Matta, la proiezione di The Eight Destroyer in esclusiva qui a Pescara, un film che racconta le gesta di una vecchina berlinese che a un certo punto della sua vita ha cominciato a staccare e grattare via tutti i simboli nazisti, xenofobi, tutte quelle scritte che inneggiavano all'odio razziale e un regista torinese si è appassionato a questa cosa e ne ha realizzato un film documentario molto bello. La rassegna si concluderà il 29 marzo presso il Circolo Futuro Imperfetto di Via Bologna con un altro spettacolo esclusivo della Compagnia Fantasma da Bologna dedicato a Carmine Iorio, beduino salernitano, racconta appunto le gesta rivoluzionari di questo personaggio dei primi del Novecento attraverso un reading musicato.